Il perito elettrotecnico si occupa di progettazione, realizzazione e collaudo di impianti elettrici, quadri e automazione industriale, tradizionale e domotica. Progetta, realizza e collauda impianti fotovoltaici ed eolici. Il perito elettrotecnico trova impiego in tutti gli ambiti produttivi relativi alla progettazione, realizzazione e collaudo di apparati elettrici ed elettronici, particolarmente di quelli di potenza, civili ed industriali, e di conversione dell'energia. È responsabile della sicurezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.